Gentili telespettatori, buona giornata. Massimo Cacciari contro la Meloni dicendo che questo premierato è una sciocchezza. Perché? Il filosofo critica questo premierato che non è un premierato. È solo l'elezione diretta del capo del governo. È l'elezione diretta del presidente del consiglio. Ma Cacciari dice un pasticcio tremendo per debolezza politica non si sceglie la strada dritta ma la solita via di mezzo che mette insieme i vizi degli estremi. Il motivo? Dice se Giorgia Meloni avesse voluto fare una cosa seria avrebbe dovuto fare una riforma alla francese, cioè l'elezione di un presidente che è anche capo del governo. Questo è solo un pasticcio che porterà a un nuovo referendum. E dice Meloni farà la fine di Renzi. Anche se non dovesse dimettersi da presidente del consiglio con la sconfitta quasi sicura al referendum sarebbe ormai bruciata. C'è un dio che acceca questi giovani leader. Questa cosiddetta riforma è una manovra di distrazione di massa. Non si parla di salari reali che sono diminuiti, di inflazione, di giovani, di precariato. Ma discutiamo di una cavolata incredibile che non frega un cavolo a nessuno. Allora io vi dico cosa ne penso. Allora la Meloni ha detto che entro dicembre doveva trovare una soluzione per il lavoro povero, le 4 milioni di persone a cui viene negato il salario minimo, a cui viene negato un salario degno. La Meloni ad agosto, quando ha riunito anche le opposizioni, ha detto adesso vedremo cosa fare, o si farà il salario minimo o si farà qualcos'altro, risolverò il problema. Siamo al 4 novembre, il 31 dicembre non è tanto lontano, entro il 31 dicembre la Meloni doveva risolvere il problema del lavoro povero. Sono in attesa di conoscere la soluzione, visto che il salario minimo la Meloni lo ha scartato, sono in attesa di conoscere la soluzione. Non parlatemi di cuneo fiscale perché il cuneo fiscale è già al massimo, è a regime. Lo stipendio che avete adesso è con tutto lo sconto del taglio del cuneo fiscale. Quindi i lavoratori poveri sono diminuiti? No, sono sempre gli stessi. Che uno guadagna mille o millecento o novecento o mille, sempre povero rimane. Quindi rimango in attesa. Per quanto riguarda questo finto premierato, perché il premierato è appunto spostare i poteri del Presidente della Repubblica al capo del governo, cioè svuotare i poteri di Mattarella e metterli tutti in capo al Presidente del Consiglio. Questo è il premierato. O il presidenzialismo è la stessa cosa al contrario, spostare tutti i poteri del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica. Questo non è né premierato né presidenzialismo. Perché la Meloni non ha fatto il premierato o il presidenzialismo come da programma elettorale? Probabilmente, questa è l'unica spiegazione che mi viene in mente, non ne conosco altre, probabilmente. Allora, senza l'aiuto di Renzi e Calenda, il premierato, il presidenzialismo non si può fare. Si vota, ma poi si deve finire al referendum, con tutto quello che comporta. Il referendum può anche essere perso. Può anche essere perso. Quelli di destra non vanno a votare perché non ci hanno voglia, quelli di sinistra si mettono d'accordo per andare a votare no. Solo per far fallire il referendum alla Meloni. Allora, quindi, premierato o presidenzialismo non si possono fare senza referendum. Ci vuole l'aiuto di Renzi e Calenda. Renzi e Calenda hanno detto no. Premierato o presidenzialismo no. Elezione diretta del capo del governo? Probabilmente sì. Quindi con l'aiuto di Calenda e Renzi, probabile, non si andrebbe a finire al referendum, si farebbe un passaggio parlamentare, viene votato ed è attivo. Quindi non si farebbe quello della promessa elettorale. Il presidente della Repubblica forte o il capo del governo forte, che poi sarebbe stato sempre Meloni. Ma si fa questa riforma dove gli elettori possono eleggere il capo del governo. Certo, la cosa interessante era avere tutti i poteri in capo a una persona, alla francese, alla tedesca, con il modello Stati Uniti, come volete voi. Perché, per esempio, in Francia chi è che comanda? Il presidente della Repubblica chi è? Macron. Lì c'è un capo del governo. Voi conoscete come si chiama? Sapete chi è? Uomo o donna? No. Serve a qualcosa? No. In Francia c'è il presidenzialismo e Macron ha su di sé tutti i poteri. Infatti quando si parla di Francia si parla di lui. Presidente del Consiglio lì non se lo calcola nessuno. Cioè, zero. Era quello che si voleva fare in Italia. Il presidenzialismo, dove la Meloni poi sarebbe diventata presidente della Repubblica con i poteri di Mattarella e di Meloni tutti insieme. Solo che non lo vuole fare perché ha capito che se andrebbe a finire al referendum allora fa solo quello dell'elezione diretta che porterebbe a evitare il referendum. Questa è l'unica spiegazione che io vedo. Non ne vedo altre. A mio avviso doveva fare il presidenzialismo al premierato quello vero. Senza paura di sinistra o di Mattarella. Secondo me doveva provare a fare il blocco navale chiedendo a Tunisia e Libia. Secondo me doveva fare il salario minimo. La Meloni non fa né il salario minimo né il presidenzialismo né il premierato né il blocco navale. È molto molto prudente. Cioè fa solo alcune cose di cui è quasi sicura del risultato. Quelle dove deve rischiare non le fa. È una sua scelta. È lei che governa. È lei che ha formato il governo. È lei che ha preso i voti. Dobbiamo non far altro che sperare che questi quattro anni, cinque anni siano nel complesso positivi e che anche se non si mantengono le promesse elettorali che però comunque l'Italia si faccia rispettare all'estero, si faccia rispettare in Italia e che ci sia un vantaggio per i lavoratori. A questo punto io mi concentrerei solo su due cose. Sbarchi e lavoro povero. Sbarchi e lavoro povero. Se risolvi queste due cose qui puoi governare per sempre, per l'eternità. È uno dei due fattibilissimo subito. Salario minimo lo puoi fare domani mattina. E zittisci la sinistra, proprio li lasci a bocca aperta. Muti completamente. Sull'immigrazione dovresti provare a parlare con Tunisia e Libia chiaramente, dire facciamo un blocco navale. Ci siete? Poi se dicono no, tu dici all'elettorato io non posso fare il blocco navale perché Tunisia e Libia non sono disponibili. Quindi tu dici all'elettorato guardate che non lo posso fare. Lo voglio fare ma non lo posso fare. E sul salario minimo, ecco, fatto. Io farei così, subito. Se io fossi al posto della Meloni domani mattina preparerei tutto per il salario minimo e preparerei tutto per viaggiare, andare da Libia in Tunisia a vedere se è possibile fare questo blocco navale, economicamente e materialmente, se sono d'accordo. Arrivederci a tutti e grazie.